Questo è un video sul versionamento di dati open, esposti come il CAD Data, ed è il risultato dello studio di fattibilità Odino, che sta per Open Data in Movimento, finanziato dalla Regione Piemonte, dal Polo ICT. In questa sezione dello studio si è inteso valutare le complessità e le garanzie richieste dalle pubbliche amministrazioni per la riacquisizione e validazione di dati modificati da attori esterni. Ci siamo concentrati sul versionamento di dati poiché pensiamo che possa essere un buon modo per ottenere dati di qualità migliore, abilitando dei processi collaborativi volti al miglioramento del dato. Ci sono diversi modi per effettuare il versionamento di LinkedIn Data. Questo che esporremo è uno dei tanti. Per avere un'idea più complessiva di cosa sia disponibile, quali sistemi siano disponibili per versionare i dati LinkedIn, abbiamo scritto un paper con una breve literatura e più dei vari metodi. Il LinkedIn sovraimpressione. Il prototipo sviluppato, che sfrutta tecnologie e formalismi standard definiti dal World Wide Web Consortium, il V3C, consente all'utente, ovvero al fruttore del servizio, di modificare e segnalare un dato non corretto. Parallelamente, il prototipo consente al manutentore dei dati, cioè alla pubblica amministrazione che detiene la paternità delle informazioni, di accettare o meno la proposta di modifica, verificando in ogni momento la history, ovvero la cronologia, dei cambiamenti effettuati. Il nostro prototipo, che è un mock-up, si basa su un seguente modello che si vede in immagine. I dati esposti, con il formalismo e il RDF, vengono visualizzati, in questo caso, su una pagina web, nel front-end. Nel caso fosse necessario, si modifica il dato puntuale creando il cosiddetto commit. Questo viene memorizzato all'interno di un grafo, che noi chiamiamo feed. Dalla visualizzazione del feed è possibile accettare o rifiutare le modifiche, che stanno nel back-end. Il singolo commit, con lo stato accettato o no, viene memorizzato nella history e, nel caso fosse accettato, viene aggiornato il grafo principale, cioè il master, che viene visualizzato dal front-end. Passiamo subito a vedere come funziona. Questa è la visualizzazione del nostro RDF su degli eventi turistici con tanto di punti di interesse presso i singoli eventi. In questo caso è solo uno, ma potrebbero essere molti, tendenzialmente infiniti. E come vediamo qui, potrebbe esserci, vediamo, un'imprecisione nella categorizzazione dell'albergo. Cliccando su quel pulsante, riusciamo poi a cambiare la categoria, in questo caso mettiamo hotel e salviamo i cambiamenti. Andando nel pannello del back-end in administration e aggiornando la pagina, vediamo che è stata proposta una modifica. Si vede dai dati del master e dai dati del feed qual è la modifica proposta e si vede anche dal commit chi l'ha modificata e in che data. In questo caso possiamo decidere se accettarla o rifiutarla. L'accetteremo. Abbiamo ricevuto il messaggio. E dalla history rivedremo subito che la modifica è stata accettata e nel front-end, ricaricando la pagina, vediamo che adesso il nostro point of interest non è più un residence, ma è diventato un hotel. Nel caso ci fosse un ripensamento, possiamo tornare nella history e decidere che magari questa modifica che abbiamo accettato vogliamo portarla indietro con un'operazione di rollback. Clicchiamo quindi sulla freccettina, riceviamo messaggio di conferma e la richiesta ritorna ad essere pending, cioè ritorna ad essere nel pannello di amministrazione in attesa di un'accettazione o un rifiuto. In questo caso adesso mettiamo che la modifica fosse sbagliata e la rifiutiamo. Nel front-end aggiorniamo la pagina e vediamo che la modifica il nostro punto di interesse è classificato di nuovo come residence. Nella history, aggiornando la pagina, lo stato della richiesta è rifiutato e quindi abbiamo finito il nostro processo di feedback per questo tipo di dato. Se si volesse contribuire al codice o vedere cosa abbiamo fatto riutilizzare, si può andare sul nostro repository GitHub dove è disponibile tutto, anche una guida su come installarlo. Il link è disponibile anche nella descrizione del video insieme anche al link del paper che abbiamo scritto sul versionamento di dati Linked. Questo è tutto e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie. Grazie.